L'Agenzia Formativa della provincia di Varese per l'anno formativo 2015-2016 è partner dell'AFO di Como nell'ambito del programma Unione Europea Erasmus+. Questo progetto prevede diverse azioni al suo interno, da una parte verso i docenti come scambio culturale e professionale e dall'altra l'offerta dei tirocinio formativi per gli studenti. Il tirocinio formativo di quest'anno della durata di un mese si è svolto in Spagna a Valencia. L'Agenzia Formativa della provincia di Varese, una grande realtà oggi approdata all'estero grazie al progetto Erasmus nella città di Valencia. L'Agenzia Formativa è un'azienda speciale della provincia di Varese che è ben radicata sul territorio varesino in quanto le nostre sedi sono, oltre che questa di Varese, anche Aluino, Tradate, Gallarate e c'è anche il CFPL che si occupa invece dell'inserimento lavorativo delle persone disabili. Quest'anno abbiamo fatto una cosa nuova per noi. È la prima volta infatti che i ragazzi dei nostri percorsi di estetica, acconciatura, cuoco e panetteria hanno potuto sperimentarsi all'estero. Sono stati infatti a Valencia 15 ragazzi per un mese dove hanno frequentato lo stage presso tutte delle strutture che sono state naturalmente da noi trovate e hanno vissuto questa esperienza sia lavorativa che di vita, che culturale e sociale in questa bellissima città. L'esperienza è stata fatta grazie ad un accordo di rete che abbiamo preso con il CFP di Como che da anni invece svolge questo tipo di attività per i ragazzi. Ora stiamo cercando di ampliare questa possibilità. Ci siamo candidati per il nuovo bando Erasmus e speriamo che l'anno prossimo saranno invece che 15 ragazzi, molti di più e di tutti i settori che ha agenzia formativa che potranno appunto prendere parte a questa esperienza di vita, direi. Sede del CFP di Varese, la più importante nella provincia. Che corsi fate e che corsi sono previsti? A Varese noi abbiamo 35 corsi e copriamo 6 settori. Settore alberghiero, settore panario, settore estetica, concettura e settore floricultori. Nella sede di Varese noi abbiamo 840 allievi del diurno, ragazzi da 14 a 18 anni. Abbiamo 3 anni di base con la testato, un quarto anno di specializzazione. Inoltre siamo ritornati al serale organizzando corsi per adulti in vari settori. Con il settore estetica, settore dolciario, settore gelataio, panario, coprendo altri 250 allievi. Sono corsi gestiti da professionisti che al termine del corso fondamentalmente i nostri allievi trovano un posto di lavoro, un'occupazione quasi certa. Responsabile della segreteria didattica e degli eventi del centro di formazione professionale di Varese. Cosa vuol dire seguire questi ragazzi sia negli stagio, sia quando partecipano ai concorsi o come in questo caso al progetto Erasmus? Sì, questi ragazzi inizialmente non hanno grandi aspettative. Entrano in questo mondo un po' precipitando dalle scuole medie. Quando si trovano in queste realtà, quando hanno la possibilità di vedere le strutture dove possono operare direttamente, lavorando e vedendo in realtà i 4-5 selli extra lusso, per loro rimangono talmente affascinati che rimangono addirittura quasi impauriti nel dover affrontare queste situazioni. Però poi vediamo che con tanta volontà e impegno riescono a affrontare questo iniziale scoglio di paura e affrontano realtà con grande successo. Come avvengono gli stage durante il loro percorso di formazione? Sì, diciamo che loro iniziano durante il secondo anno scolastico a sperimentare un 200 ore quasi di stage nelle aziende esterne e vengono appunto accompagnati dai tutor della scuola di stage nelle aziende e iniziano a lavorare in un'organizzazione vera e propria lavorativa. Quindi sperimentano quali sono già le difficoltà da piccoli. E qui hanno la possibilità di confrontarsi e capire se effettivamente la loro scelta è la scelta giusta. Spesso purtroppo devono anche valutare se effettivamente gli impegni lavorativi sono quelli che immaginavano perché da piccoli fare una scelta in età adolescenziale non è così semplice verificare se effettivamente sarà quello che loro avevano programmato per un futuro. Alberghiero del CFP di Varese, centro di formazione professionale. Nel settore ristorazione, i nostri ragazzi come li preparate e che prospettive di lavoro hanno? Per quanto riguarda il settore cucina del nostro istituto il programma è stato rivisitato, è molto fitto. I ragazzi che escono ormai dalla nostra scuola già al terzo anno hanno delle conoscenze che arrivano quasi anche alla cucina molecolare. hanno all'attivo esercitazioni su più di 150 ricette fatte prima spiegate con delle lezioni frontali poi realizzate personalmente. L'impiego di attrezzature è vasto ci teniamo aggiornati e portiamo i ragazzi addirittura nelle aziende produttrici di queste attrezzature facendogli vedere dalla produzione alla realizzazione e assistono anche a degli shoe cooking per capire come utilizzare bene queste attrezzature anche semplicemente delle padelle. Per quanto riguarda l'istituto come ripeto il programma è stato rinforzato i ragazzi con la partecipazione ai concorsi hanno aumentato comunque un livello di interesse un po' anche la promozione televisiva con i vari concorsi che vediamo tutti i giorni in televisione questo spinge i ragazzi a fare sempre di più sempre di meglio soprattutto quest'anno come l'anno scorso abbiamo partecipato ai concorsi dove abbiamo vinto e stravinto ma questo grazie comunque all'impegno dei ragazzi che al di là dell'impegno scolastico si sono fermati ore e ore insieme al docente per prepararsi in questa preparazione. Io invito tutti a venire comunque a provare a iscriversi perché oggi l'agenzia formativa è veramente cambiata ringrazio tutti forse magari per il discorso della prospettiva di lavoro con la preparazione che facciamo noi e una preparazione d'inglese io posso dire che i nostri ragazzi hanno il mondo in tasca. Cosa vuol dire a 25 anni essere insegnante in un istituto come questo e come sei arrivata a questo traguardo? Sicuramente una grande responsabilità per i nuovi giovani che vogliono fare questo mestiere io sono nata in una famiglia di ristoratori quindi questa passione ce l'ho avuta da subito ho fatto il liceo e dopo sono andata a fare la scuola di Gualtiero Marchesi la parte tutta di pasticceria sono specializzata nella cioccolateria sono andata a fare delle esperienze in ristorazioni e stellati Michelin sono andata in Francia e poi ho avuto l'opportunità di fare questo bellissimo lavoro insieme ai ragazzi. Che prospettive ci sono nel settore panificazione e pasticceria? Allora sicuramente non è un ambiente facile però penso che se un giovane ha passione ha voglia prospettive ce ne sono davvero tante in Italia è anche un'esperienza all'estero giusto per imparare, per crescere per vedere qualcosa di diverso ci sta sempre per poi naturalmente tornare in Italia e far crescere il Made in Italy. Come è organizzato un laboratorio di pasticceria? Beh, in questa scuola è organizzato molto bene assomiglia in tutto e per tutto a quello che è un laboratorio di pasticceria normalissimo in qualsiasi negozio abbiamo tutte le attrezzature che servono per lavorare per far lavorare i ragazzi nel modo corretto e piano piano riusciremo a far capire loro come e in che modo precisamente usare tutte quante le attrezzature abbiamo anche delle attrezzature per fare del gelato quindi negli anni con i corsi avanzati riusciremo a far vedere loro tutto quello che è la preparazione della pasticceria dalla base alla gelateria, alla cioccolateria anche. Laboratorio di panificazione del CFP di Varese Questi ragazzi li state preparando per cosa? Li stiamo preparando innanzitutto per gli esami che si svolgeranno a giugno e poi cerchiamo di prepararli con un lavoro che penso sia il loro futuro che è la panificazione e specialmente una panificazione artigianale dove il lavoro è svolto prevalentemente manualmente. Che differenze abbiamo tra lavoro artigianale e il lavoro industriale? Il lavoro industriale è fatto comunque con dei macchinari a posta dove comunque si sviluppa tutto in stampi questo ed altro e quindi viene tutto lavorato a livello industriale qua invece ogni singola cosa viene fatto proprio dai ragazzi quindi dall'impasto a tutto tutto manuale completamente quindi l'impasto, la manipolazione degli alimenti tutto a mano. Prospettive di occupazione in un settore che comunque è abbastanza impegnativo visto che il lavoro avviene alla domenica e alla sera. Lavoro impegnativo dove il ragazzo deve assumersi certe responsabilità che sono innanzitutto una puntualità per il lavoro notturno una puntualità sul posto di lavoro correttezza e predisposizione innanzitutto a questo lavoro dove loro possono svolgere in modo appropriato le loro belle qualità che hanno. Settore Salabarra del Centro di Formazione Professionale della provincia di Varese un ragazzo che volesse intraprendere questa carriera che caratteristiche deve avere? Tanta umiltà di imparare per poter servire quindi stando dentro delle regole del rispetto e dell'educazione ma soprattutto percorrere quella propria strada che va dal servire quindi saper servire saper apparecchiare saper soprattutto ospitare qualsiasi formula che sia in ristorante che sia al bar in qualsiasi locale dalla pizzeria al grande ristorante stellato deve avere l'umiltà di imparare tanti tanti gesti ma soprattutto quello che poi qui a scuola predichiamo costantemente è di rispettare le regole dalla puntualità dagli strumenti ma soprattutto quello che è il comportamento di un mestiere fantastico quello che è la sala del bar del cameriere del barman grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti